cinque poveri ciechi un'orchestrina ambulante di mendicanti sul marciapiede di santa lucia e questa è una delle immagini più toccanti dello spettacolo che il teatro stabile di roma ha voluto dedicare a raffaele viviani l'autore attore napoletano scomparso nel 1950 con la collaborazione dello scenografo ferdinando scarfiotti e del maestro fiorenzo carpi che ha rielaborato le più fortunate canzoni dell'artista due momenti particolarmente significativi della produzione di viviani arrivano al palcoscenico per la regia di giuseppe patroni griffi ho scelto toledo di notte la musica dei ciechi perché secondo me rappresentano un discorso unico sull'autore viviani cioè la musica dei ciechi è il compimento dell'autore toledo di notte è invece l'inizio della vita di un autore cioè viviani viene dal varietà napoletano e in toledo di notte comincia a scrivere in prosa servendosi di tutti gli elementi del varietà passano dieci anni e scrive musica dei ciechi non che scrive scriva solo musica dei ciechi insomma arriva a musica dei ciechi dove lì l'autore ha compiuto la sua carriera signori e signore riganderò arrasata rigando la missa ed eccoci nel clima della musica dei ciechi la gente è frettolosa e distratta nessuno si ferma per l'elemosina di una moneta l'impresario dell'orchestrina l'ambulante l'unico che ci veda sia pure con un occhio solo pensa di poter attirare l'attenzione dei passanti con una canzone di successo io tengo qui e io a tu attaccato io tengo a questa onnata l'inizio grossa assai non lascio perché mai fa trovarlo perché mi sembra piaciuta di stare in allegria io la valideglia non sapesse che cos'è Sarra di petta grossa bisopta Ha 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 No vengare muovata e clava Ha 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 Traviata 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 Ferdinando il contrabassista dell'orchestrina l'attore Franco Sportelli è geloso di sua moglie Pupella Maggio Una brutta squallida donna che egli non ha mai visto e che crede bellissima porteggiata e infedele Questa musica Giuseppe aperta la scrovetta per mamma Questa musica Questa musica Questa musica Questa musica Qui siamo invece nel chiasso della via Toledo di Notte, luogo d'incontro della più svariata e pittoresca umanità. Toledo di Notte è stato scritto nel 1918 e rappresenta una serata a Napoli nell'immediato dopoguerra, della grande guerra naturalmente. Ed è una folla fitta di tipi, di personaggi, tra personaggi tra poveri, ricchi, stupidi, intelligenti, loschi, ignoranti, cioè di tutti i geni. Sono scene di strada. Si alternano essuberanti scugnizi dalle vesti a brandelli e vive per i quali il frac è la divisa di ogni notte. Sfaccendati che cercano di fare l'alba in qualche modo, insomma una dolce vita del primo novecento, guappi della vicaria, dall'aria truce e dal gesto perentorio e ricchi gaudenti in perfetta lotta contro la noia. Non manca l'incontro tra una ragazza perduta e il suo amico camorrista, pretesto per un malizioso duetto. grazie Angela Luce, Mariano Rigillo, Corrado Anicelli, Antonio Casagrande sono gli altri principali interpreti di questo eccellente spettacolo che il pubblico romano segue divertito e commosso.